Torna anche quest'anno la campagna del nastro rosa della Lilt, Lega Italiana lotta ai tumori per la prevenzione e la lotta dei tumori al seno. Quest'anno l'evento si concretizza in maniera più articolata in quanto ci sarà sabato prossimo, 12 di ottobre, la carovana della salute organizzata dalla CISL di Pescara a cui la Lilt è stata invitata ad aderire. Quindi noi cominciamo questo mese di ottobre con queste visite addirittura in piazza Salotto con i nostri senologi dell'ospedale con i quali siamo in convenzione. La campagna proseguirà sicuramente nel mese di ottobre ma anche nei mesi successivi perché non riusciremo a fare tutte le visite che ci chiederanno e ci saranno esposti dei numeri a cui telefonare con delle giornate prefissate per poter prendere questi appuntamenti. Inoltre il sabato 12 c'è nel desk della Lilt a piazza Salotto, si accettano anche le prenotazioni per queste visite senologiche. Chiaramente l'obiettivo nostro non è solamente quello di fare visite e quindi prevenzione secondarie sul territorio ma è anche quella di suscitare nella popolazione interesse per la conoscenza della prevenzione in generale e anche per la prevenzione senologica. Voglio dire che i corretti stili di vita, eliminazione di alcune malattie infettive, eliminazione di alcune abitudini di vita come il fumo della sigaretta riescono a ridurre l'incidenza del tumore della mammella. Quindi anche il fumo fa male come incidenza sul tumore della mammella.